Nei video precedenti abbiamo visto come le views, le viste, permettono di memorizzare un comando select in modo permanente nel database con diversi vantaggi. Il principale dei quali era quello di separare la vista utente, cioè la visione che ha ciascun utente del database, da quella che è la reale completa struttura logica dello stesso. Una vista però può contenere un singolo comando di select e non può accettare parametri, tipo una vista a cui dire un valore di soglia per la selezione, estrarre i dati dei clienti ma solo se il loro fatturato è maggiore di un certo valore di soglia. Ecco questo valore non lo si vuole fissare a livello di vista ma sarebbe bello poterlo comunicare al momento dell'esecuzione del comando, un po' come succede nei tradizionali linguaggi di programmazione quando si invoca una funzione a cui vengono passati appunto dei parametri. Le store procedure, procedure memorizzate, sottinteso nel database, superano questi limiti e aggiungono anche altre possibilità, però non dovete pensarle come a un sostituto delle viste, le complementano. Potete pensare alle store procedure come ai dei veri e propri script di comandi SQL, qui ho usato il termine batch, cioè un insieme di istruzioni SQL memorizzate su server. Come accennavo ci sarà la possibilità al momento della loro invocazione di comunicare dei parametri, dei valori dall'esterno con cui modulare il risultato, ma potremo anche far restituire dei valori all'esterno, cioè dei parametri in uscita. Attenzione, anche se qui li sto paragonando un po' dei sottoprogrammi, è facile a questo punto confonderli con le cosiddette funzioni definite dall'utente, che sono anche loro effettivamente degli elementi assimilabili a concetti di sottoprogramma, ma con delle sostanziali differenze che eventualmente avremo modo di esaminare più avanti nella playlist. Ma quali sono i vantaggi rispetto all'eseguire gli stessi comandi, uno dopo l'altro, in modalità interattiva oppure programmaticamente? Velocità, soprattutto con lunghe sequenze di comandi, il server impiega del tempo a verificare la correttezza sintattica e inoltre potrebbe anche riorganizzare i comandi e soprattutto le join secondo dei criteri di ottimizzazione. Per una store procedure questo può avvenire una volta, dopodiché alla successiva richiesta si può già partire con l'esecuzione, senza bisogno di questo processo d'analisi. Viceversa, quando gli stessi comandi vengono dati in modalità interattiva o inviati da un programma al server, tutte le volte devono essere analizzati in questo modo e quindi, mediamente, si perde più tempo. Una store procedure può poi contenere davvero tanti comandi e in un reale ambiente di produzione dovete ragionare su una moltiplicità di utenti che potrebbero ciclicamente richiedere l'esecuzione degli stessi comandi. Tutto questo si traduce in un discreto traffico di rete. Adesso, se invece l'unica cosa a transitare sulla connessione fosse solo il nome della store procedure da eseguire e i comandi già analizzati oltretutto, sono già presenti sul server, tutto questo traffico di rete si riduce a una piccola frazione rispetto a prima. Sono anche un modo per uniformare la gestione dei dati da parte degli utenti di una certa organizzazione. Invece di lasciare ciascuno libero di fare un po' quello che vuole, si stabiliscono delle regole che prevedono, soprattutto per operazioni di manutenzione particolari, di richiamare obbligatoriamente certe store procedure. Questo permette anche per le operazioni più pericolose o più onerose di avvantaggiarsi delle migliori competenze che hanno certa ditta, per cui certe store procedure, per farla breve, le facciamo scrivere ai più bravi e tutti ne beneficiano. La gestione centralizzata di un unico repository, deposito di queste procedure, ovviamente facilita la manutenzione, perché non c'è una duplicazione selvaggia di script, ma una sola copia gestita appunto a livello centrale. Aspetto certamente non trascurabile è quello della sicurezza. È vero che il programmatore accorto può difendersi direttamente a livello di codici sorgenti lato server, quindi PHP, Aspenet, quello che volete, Java, ma deve ricordarsi di farlo, di difendersi ad esempio da tecniche di SQL injection. Se invece i controlli vengono effettuati a livello di store procedure, Sfruttando, come vedremo, il controllo a livello di store procedure sul tipo dei parametri e la lunghezza dei parametri passate alla procedura e costringi i tuoi utenti, intesi anche come programmatori, ad usare quelle, non puoi sfuggire. Passi per forza per i controlli. Ma forse non tutti sanno cosa si debba intendere per queste tecniche di SQL injection e che pericolo possono rappresentare, per cui vediamo un piccolo esempio. Classica situazione critica, il momento del login, dell'autenticazione dell'utente. Verrà compilata una form, magari online. Lato server raccogliamo i dati inseriti in questa form e tipicamente c'è un comando che costruisce la stringa SQL per andare a fare il controllo che viene costruita in questo modo. Una parte fissa, seleziona le informazioni dalla tabella degli utenti e qui, pensando di usare informazioni incorrettamente e non maliziosamente digitate dall'utente, si impone nella condizione WHERE l'uguaglianza dell'username e della password. Quindi WHERE username è uguale, apice, il contenuto della casella di testo in cui l'utente ha inserito il suo username e a seguire la concatenazione con clausola AND per la verifica anche della password. Stessa cosa, AND user pass, ovviamente username e user pass sono i nomi, si immagina che siano i nomi dei campi della tabella utilizzata, uguale, di nuovo si va a prelevare dalla casella di testo la password inserita ed entra in campo la SQL injection, cioè l'utilizzo come valore di input di stringhe pensate a darte per scombinare questo test. Immaginiamo che venga inserito come username questa schifezza. Se seguiamo questa costruzione della stringa, noi siamo qui, no? Apice aperto. Questo apice andrebbe a chiudere il valore del username e quindi la select risultante diventerebbe questa WHERE username uguale niente, ok? E di per sé questo farebbe fallire la ricerca. Ma questo OR 1 uguale a 1 è chiaramente sempre vero. Quindi questa condizione WHERE sarebbe sempre verificata. E questo doppio meno? Serve a trasformare in un commento tutto quello che segue. Abbiamo tagliato fuori il vero controllo sulla password. Questo darà sempre vero. Risultato? Quest'utente risulterà autenticato chiunque sia. Non è che stia affermando che le store procedure sono una soluzione definitiva e da sola completa contro SQL injection. Il controllo a livello di store procedure è semplicemente una barriera in più. La prima conviene inizi già a livello di input, quindi controllo immediato, col javascript per esempio. Mentre nel browser stiamo inserendo i dati. E già lì c'è la possibilità di bloccare i tipi più semplici di SQL injection. E poi alzare una ulteriore barriera a livello di store procedure. Mi fermo. Dal prossimo video vedremo come scrivere queste store procedure. E mi piacerebbe vederlo sia in ambiente SQL Server che MySQL perché qualche differenza come al solito poi ci scappa sempre.